Alla mele si vedeva una roba Quelli di via a Verona Quelli di via a Verona che poteva schizzare a Portatino Dopo lui, a parte che disegna l'astra e contro l'astra e non la poteva scorrere Anche perchè gli ha fatto la doante interna, la maniglia, la terribalda, non gli ha fatto la lastra Però, anche se questo è stato a posto, non poteva scorrere perchè la porta schizzava E la mia ho pensato, manca mai che succede un'altra volta che l'investita è forte e non sa come farlo Questo qua non è un trofeo, è praticamente una roba che non è che mette a Gesù E' una roba che non l'ha a portarsi nelle gare così Se succede per i ricambi di diose, praticamente non è una porta di scorta da scambi Non c'è lì, non c'è lì la porta Anche l'ha perdita Praticamente Non c'è lì la nostra porta Grazie 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 Grazie